Allora, come è andata ancora? Tutto bene, dai, ho un po' di verifiche e interrogazioni, ma... A me è divertente, perché ormai ho giocato... Sì, tu giochi, ma io studio. Perché c'è la porta aperta a Bento? Ma Bento, ma sarà forse mamma che è uscita e si è dimenticata? No. Vabbè... Perché loro hanno le chiavi in tacca, portano dentro. Vabbè, Ludo, entriamo, scusa. Ludo, hai un quarto. Siamo tornati a casa. Mamma. Mamma. Perché non c'è mamma? Ludo, chiudiamo con la porta? Dai, su, è uscita, è uscita a fare la p... Ludo, Vika. Le chiavi sono qua. Le chiavi sono qua. Perché sono qua le chiavi? Mamma, sei su? Ci sei? Siamo tornati da scuola. Mamma. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. E' uscito qualcuno. Non c'è nessuno. No, no, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. No, ma io non toccarla. Mamma. Papà. Papà! Papà, forse sei uscito per una bella pese e ti sei dimenticato di buttare il tavolo. Perché una sedia è giù e una sedia no? Mamma, siamo tornati da scuola. Mamma, siamo tornati, Vika. Forse papà, forse papà si è dimenticato di chiudere la porta per un po' pazzo. Ok, papà, il nostro premio di YouTube è lì fermo. Fermo, nessuno l'ha toccato, meno male. Ma... E' tutto molto strano. Che cosa è successo? Mamma, sei qua? No, è tutto molto strano. Ah, no, ma Ludo. Ma secondo me è su, mamma, perché forse sto facendo... Forse! Sta pulendo qualcosa Forse c'è un buco qua nel tetto E' uscito dalla pioggia E' fatto tutto questo terremoto No, no, Aldo Ma secondo me mamma è su Però lei No, però lei Visto che è su non si vuole far sentire Perché mamma ti ricordi che ci aveva No, perché mamma ci aveva detto Che noi su non ci possiamo andare Quindi quando noi la chiamiamo Non risponde Perché se no lei è su Noi capiamo che è su e quindi andiamo da lei Ma lei non vuole Magari Forse starà dormendo e ha chiuso la porta Esatto, forse starà dormendo E ha chiuso la porta quindi non ci sente Andiamo a controllare nelle altre stanze Abbiamo capito che nel salotto Non c'è nessuno E c'è un bel casino I pezzi erano messi Perché adesso sono così Vabbè Ludo Però ora andiamo un attimo A vederne le altre stanze Ma se si sono persi Esatto Perché Ora andiamo un attimo A vederne le altre stanze Perché forse mamma Forse sono te in divano Però forse mamma Starà dormendo E quindi non ci sente Capito Ludo Ha chiuso la porta Esatto Vedi che non c'è nessuna lettera blu Esatto Non c'è Non c'è nessuna lettera blu Non c'è niente E vedi che non c'è neanche una macchia blu Non sente rumori Tanto non c'è Allora Senti rumori No Niente Non c'è neanche nessuna barba lunga Non c'è neanche Sam No Ma non c'è nessuno Dai Ludo Prova avanti tu Dai Ok 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 Ludo Vado avanti Vado avanti Mamma no La porta era chiusa Poco Ludo facciamo una cosa Se c'è qualcuno Tu lo sai Battire le mani Tutto finita Non c'è nessuna Vedi Ludo È solo la nostra immaginazione Dai Dai forse E la Andiamo 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 Perché la nostra luce è accesa Perché la porta del bagno è accesa Dai 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 Lati d'asso mi aiuta Dai Allora Lati d'asso mi aiuta Ma Il quadro era per terra Ok qui c'è il quadro di papà Era come prima No 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 Bella Bella Era più Quattro No Ludo papà Prima Guarda che l'ha messo Tranquilla Libri a posto La parte Perché 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 Per usci Sono Qual è Una parte L'altra Una parte Cosa sono Tutte le bambole per terra Perché Queste buce Non sono rubate Ludovica Perché il muro è tutto sporco Allora andiamo a me Nella stanza di letto Esatto vai 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 No 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 I miei trucchi No 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 i miei trucchi sono chiusi mamma non è qua ma la mia coperta si va per la tua coperta ma la coperta all'ultima cosa a cui dobbiamo pensare allora dobbiamo pensare a mamma allora io mi ricordo che papà doveva andare a laurare oggi ma mamma no però mamma perché c'è il cassetto aperto si vabbè Ludovica non è che dobbiamo andare a vedere i minimi particolari ma no ma forse abbiamo tipo ma dai questi sono i miei trucchi Ludovica no forse è un amato consumato rosa pure quello grezzerato ma mamma non c'è qua beh l'unica stanza è sopra vai tu allora ma vai tu sì e mamma sta dormendo su Ludovica capisci che su ci sono ben due portali magici ok ok possiamo amala ciccoco amala ciccoco ci esce prima ciccoco io esco davanti tu oddio mamma è scomparsa mamma è scomparsa rapolo ricapitoliamo siamo tornate alla scuola La porta era aperta Non so chiusa, aperta E poi tutto sotto sopra Esatto Il cassetto era rotto Tutto era scon... Cioè, tutto era sotto sopra I cassetti E il nostro tavolino, le sedie Tutto La porta della cucina Sono andata a vedere e io mi ricordo bene Era chiusa L'ho aperta Ho visto che non c'è nessuno L'ho chiusa Ma quando volevamo andare qui Io ho visto che la porta della cucina Era aperta La mia? No La mia cucina ha giocato La porta Ludo Vai su Io ti aspetto qua Che dici se mi rapisci? Ludovica mamma è palesemente in pericolo E noi ovviamente Dobbiamo andarla subito a salire Tu hai paura? No Perché noi non ci arrendiamo Mai Amore mio Amore mio Forte coraggio Sono vanta per combattere Mestri di barba lunga E sta male Andiamo No, ho paura, non è vero Andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Dobbiamo muoverci Andiamo Mi devo prendere un calmante Non ce la faccio Forza e coraggio Vai Ludo Vado io allora Il telefono di mamma Non è rotto Dai Aurora saliamo Ludovica abbiamo già il telefono di mamma Aurora è un orecchino Aspetta Ludovica Questo è l'orecchino di mamma Questo vuol dire Che Mamma È su C'è Abbiamo due tracce Il telefono e l'orecchino Questo ci posso Queste due cose ci possono servire Poi andiamo su Ludovica No, Ludovica Tutto a buio Non ci voglio andare Su per favore Ludovica No Ok Pezzi di carta Aspetta Dammi un attimo il telefono Non ho alcuna tasca qui Vabbè Lo mantengo in mano Aspetta Faccio così Ok perfetto Eh Vedi tu Aspetta Mi 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 E qui cosa c'è Aiutatemi Aiutatemi Mi aiutatemi Non ha molto senso Eh Ok Vedo Aurora No c'è un coriandolo Perché c'è un coriandolo Un coriandolo Blu Ok Andiamo No Aurora Aurora Abbiamo Ben delizio Abbiamo trovato il telefono I biglietti Un coriandolo azzurro I biglietti E dei biglietti E l'orecchino Forse Ludovica ci saranno altri bigliettini che dobbiamo trovare no? Perché non ha senso mi aiutatemi Sì infatti Ma poi chi è che l'ha scritto? È blu quindi Mister Pooh Ma secondo te Ludovica Mister Pooh ha scritto aiutatemi? Sarà mamma che l'ha scritto Andiamo su Vai tu Perché c'è un'altra? Alte due carte Alte due carte Aspetta 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 Allora Cambiamoci Allora questo è Aiutatemi Il bigliettino di prima Anche il mio Ho questo coriandolo blu Anche Anno Anno Fra vita Componiamolo un attimo Mi Ah no 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 aiutatemi aiutatemi Mi Hanno Rapita Aspetta mamma immagino no Aspetta questo vuol dire che mamma è stata rapita Ludovica Quindi questo è Mister Pooh Rapita mamma Mister Pooh No 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 Mister Pooh No Odio Mister Pooh Poi raccogli un attimo quello Grazie Ma quello è stato Mister Pooh Ma quello è stato Mister Pooh Oddio no Cosa facciamo? Grazie Siamo il nostro papà. C'è mio papà? Sì, 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 mi dà una ludobrata. Mennomale che ci sei tu. Ma questo non posso. Aspetta, aspetta, aspetta. Perché è carico? È scarico. Non è qualcosa che mi ha andato a mezz'otto. Perché il telefono di mamma è scarico? Allora chiamiamo con il tuo. No, provo io. Aspetta, ti metto un attimo. Ok, 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 ok. Su, dai. Dov'è? Ludo, mi raccomando, mettiamo viva voce. Mettiamo viva voce. Aspetta, Ludo, viva voce. Aspetta, aspetta, Ludo, viva voce. Aspetta. Dai, ti prego. Dai, aiutami. Aiutami. No, Ludo, basta. Non risponde, papà. Non risponde. Ok, aspetta, Luda. Quindi, mantieni queste cose tu. Io, tutte. No, 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 tu mantieni l'orecchino e io mantengo i bigliettini. Quindi, oh, no, mamma mia. Ma prendo. Quindi abbiamo, quindi. Tieni. Tipo era una specie di puzzle. E' una specie di il suo telefono. Grazie. Ok. Andiamo su. Quindi, Ludo, sappiamo che mamma è stato rapita. Mamma mia, è stato rapita. Mi sembra male. Telefono, orecchino. No, no, no. Mister Fu? No. No, no, no. Questo qui non volevo. Dove sei, no? Mister Fu già. No. No. ma non è giusto ci sono le nostre cose qui la mia sedia ma queste cose ci servono per fare i video su roblox la mia sedia ma chi ha preso questa roba dei nostri video di roblox per compiere raggiù e poi chi è che ha osato prendere la nostra attrezzatura per fare i video su roblox la nostra telecamera per terra no 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 non è che hanno fatto il microfono non è che hanno fatto il microfono no 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 è acceso acceso brava brava ma non è che ci stanno spiando con queste oppure è con questa ma no non stiamo per fare i video su roblox no non è che ci sono qualche videocamera qua in giro no no non c'è niente ok ok quindi non è che aspetta aiuta ma perfetto quindi abbiamo quindi aiuta mi ma ma dove è l'altro pezzo quindi rapita rapita aiutatemi mi hanno rapita mi hanno rapita mi hanno rapita aiutatemi 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 ok ludovica lasciamo tutte queste cose qua e ora è il momento di andare di là se ne portiamo queste cose no ludovica intanto lasciamole qua intanto abbiamo visto che qui non c'è nessuno non c'è nessuno vero ora è il momento lasciamo tutte le cose qua ok aspetta ho io no ludovica però se noi qua incontriamo qualcuno dobbiamo difenderci no ma dove ma dove ehi che cosa è tutto questo libro scusa mia perché ci sono i miei libri qua sopra ma perché ci sono i panni di papà di qua no no il nostro coso per film stai bene? ehi ci vedi? no 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 ormai mi interessa più le cose per i film a me invece interessa più mamma e poi ti andrò eh la porta mamma no è la porta ludovica sai che dobbiamo entrare? no dentro a quella maledetta porta voglio la mia mamma dai amore tranquilla ci sono io qui con te troveremo la nostra mamma va bene? non dobbiamo lasciare mamma in pericola la dobbiamo salvare esatto ludica basta pianucolare non possiamo lasciare mamma lì ah io sto qua no 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 dobbiamo salvare mamma insieme dove vai tu? io vado edurica basta parlare basta parlare dobbiamo entrare bene io mi metto di qua edurica vieni qua una due uno mamma 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 c'è nessuno? non ti 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 Grazie a tutti.